Ciao a tutti, abbandona il malessere e ricerca il benessere. In questo video voglio spiegarti come fare per abbandonare una sensazione di malessere e andare a ricercare il benessere. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere di farmi delle domande a cui risponderò in apposite live. Ma adesso veniamo proprio al tema, abbandona il malessere e scegli il benessere. Allora, intanto, quando è che viviamo una situazione di benessere o una situazione di malessere? Allora, la nostra vita, diciamo, ci porta a circostanze diverse. Talvolta abbiamo delle esigenze e queste esigenze vengono, come dire, soddisfatte e talvolta le esigenze vengono frustrate. Quando le esigenze vengono soddisfatte, anche se abbiamo attraversato, diciamo, anche se siamo usciti fuori dalla nostra zona di comfort e abbiamo, tra virgolette, sudato le solite sette camicie per ottenere questo, ma una volta che le esigenze sono soddisfatte, anche superando delle difficoltà, quindi è fondamentale rendersi conto che sono le stesse difficoltà superate che ci portano uno stato di benessere. Se non ci fossero le difficoltà, non sentiremmo neanche questo stato di benessere. Quindi le difficoltà della vita sono indispensabili. Pensate voi a quando, che ne so, un maratoneta che si distrugge, diciamo, per fare una maratona, ma poi prova piacere ad arrivare fino in fondo. Quindi in realtà sono le stesse difficoltà della vita che ci dicono quanto grande sarà il benessere. Più, come dire, il disagio però controllato è stato grande, più il benessere nel godersi il risultato sarà intenso. Beh, è come, diciamo, da un punto di vista sentimentale e affettivo, andare a letto con una donna o un uomo che si è corteggiata o che, insomma, è stato veramente difficile riuscire ad arrivare lì, e beh, ti danno una soddisfazione maggiore che andare con una che è già disponibile. Quindi è molto diverso affrontare le difficoltà della vita e poi riuscire poi a soddisfare queste gratificazioni. Quando sperimentiamo, diciamo, una gratificazione, in quel momento lì viviamo uno stato di benessere. Il corpo, diciamo, si mette in pausa per ricaricarsi, c'è stato ovviamente uno sforzo, la mente, diciamo, ha avuto un senso di pace e noi ci sentiamo gratificati, abbiamo un senso di benessere. Se invece questa esigenza, diciamo, nonostante la sofferenza, nonostante lo sforzo, in qualche modo non viene soddisfatta, beh, allora entriamo in uno stato di malessere, fondamentalmente. Il corpo non è più ricettivo ma passa in uno stato reattivo, diciamo, entra in una zona attiva alle reazioni di lotta, di fuga o di paralisi e scatta, diciamo, paura, frustrazione, sofferenza e quindi di fatto uno stato di malessere perché i nostri bisogni, in qualche modo, nonostante la sofferenza, nonostante gli sforzi, non sono stati soddisfatti, quindi i sogni si sono infranti, resta solo la sofferenza, resta solo il dolore. Dobbiamo, diciamo, cercare di, quindi, di soddisfare i nostri bisogni, dobbiamo avere la forza di soddisfare quelli che sono i nostri bisogni principali, che poi sono sicuramente bisogno di sicurezza, sentirci sicuri, bisogno di essere gratificati, di essere riconosciuti, bisogno di socialità. E quindi, cosa vuol dire? Il bisogno di sicurezza è un bisogno di, ad esempio, essere in grado di vivere una vita sicura, fondamentalmente, ed è una caratteristica del nostro cervello rettiliano. Avere soddisfatto questo bisogno in tutte le sue societature ci dà uno stato di pace e non soddisfarlo ci dà uno stato di paura. Anche, diciamo, il bisogno di gratificazione, di essere riconosciuti, e, diciamo, deve essere soddisfatto. Quindi, e questo fa parte, diciamo, del nostro cervello mammagliano. Quindi, riuscire a soddisfare la gratificazione nelle nostre esigenze, c'era uno stato di soddisfazione, e non soddisfarla uno stato di frustrazione. E poi il bisogno di creare legami, di creare relazioni. È un qualcosa, diciamo, legato alla neocorteccia, fondamentalmente. Vivere dei legami positivi ci dà una sensazione di amore, non viverli comunque una sensazione di malessere. Ecco, quindi che queste aree principali della nostra vita sono fondamentali per riuscire a soddisfare, diciamo, queste aree fondamentali della nostra vita, che poi si manifestano comunque anche nei rapporti, nelle relazioni, nei rapporti con la famiglia d'origine. E' molto importante creare una relazione, mantenere una relazione con la propria famiglia d'origine, a livello di socialità, con la famiglia acquisita, mantenere dei validi rapporti sentimentali affettivi, anche passionali, realizzarsi nel lavoro, nelle amicizie, nella socialità, e anche realizzarsi con se stessi, quindi avere una buona autostima. Quindi è importante, diciamo, riuscire a capire in quale aree ci stiamo muovendo, definire degli obiettivi e mettere energia per raggiungerli. Dobbiamo imparare a gratificarci, se vogliamo stare bene, non tanto col risultato raggiunto, ma tanto quanto col perseguirlo, perché se noi riusciamo a perseguire un risultato, mantenendo il giusto distacco, perché imparare a raggiungere il risultato, a superare gli ostacoli, è la vera fonte che ci permetterà di vivere costantemente il benessere. Se invece siamo direttamente collegati all'appagamento, dobbiamo imparare a trovare appagamento nel fare le cose indipendentemente dal risultato, quindi nell'ambito delle relazioni sentimentali effettive, per fare un esempio, devo trovare già l'appagamento nel corteggiare una donna. Se poi la cosa non va a buon fine, io l'appagamento l'avrò già trovato, e poi utilizzerò quello che ho imparato, magari con un'altra donna, quindi imparare a variare sempre l'oggetto di desiderio, non restare legati a un oggetto di desiderio specifico, ma imparare a cambiarlo. Ecco, in questo modo riusciremo a uscire tranquillamente dal malessere e entreremo nel benessere. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere di farmi delle domande in apposite live, alle quali darò delle risposte precise. Ciao a tutti.